Non posso negarvi che l'arrivo di Paolo Di Bala mi abbia scioccato, io da stamattina ragazzi sono lì che ragiono e ragiono e ragiono e ragiono e ragiono perché a voi vi sembrerà una cazzata, a voi che magari ti fate delle squadre che hanno avuto sempre dei grandi campioni. Ci sta, ci sta assolutamente che a voi sembri una cagata, a me non sembra una cagata e a me non sembra una cagata il fatto che io sia scioccato proprio perché ma ci rendiamo conto, ma ci rendiamo conto che Di Bala poteva andare ovunque, ovunque e è venuto alla Roma, ma ci rendiamo conto? Io no, io ancora non me ne rendo conto, io ancora non me ne rendo conto, sarà perché poi anche i tifosi delle altre squadre hanno un po' esorcizzato questa cosa dicendo mandannate ma chi ve credete, ma che pensate di fare e allora l'ho sempre creduta abbastanza impossibile, però a me l'arrivo di Di Bala a Roma mi ha scioccato, io ci speravo perché comunque ho fatto dei video, ne ho parlato, ho dato delle mie indicazioni, però per me era quasi impossibile. Invece oggi in realtà, non so se avete visto, Di Bala ha fatto addirittura le foto con Tiago Pinto, ha parlato della 10 ma ha detto è una sorpresa vedremo e ovviamente ne parleremo in un video dedicato perché ragazzi la 10 a Roma è sacra e quindi se dovesse prenderla Di Bala se ne dovrebbe andare a parlare, ma a parlare proprio, sapete come che, proprio se ne dovrebbe parlare nel dettaglio perché sarebbe fondamentale, però bisogna capire e lo faremo insieme in questo video dove e come giocherà la nuova Roma di Di Bala. Con Paolo Di Bala. Innanzitutto Di Bala ha dei lati positivi e dei lati negativi, il problema, questo c'è, è che lui non è un giocatore che gioca punta, non gioca ala, non gioca mezzala, non è un giocatore che si adatta, lui è un C.O.C. Lui non è nient'altro che un C.O.C., lui è un trequartista, è un vero 10, è quello che al tempo si andava a cercare perché le grandi squadre d'Italia cercavano il 10. Poi negli anni il calcio si è evoluto e non dico che si sia smesso di cercare il 10, ma quantomeno si è smesso di dare una centralità solo al 10, ma i giocatori più, come posso dire, più richiesti a grande sorpresa sono diventati quelli che sanno fare più ruoli. E quindi è anche per questo secondo me che Di Bala ha tirato meno rispetto ad altri profili. Lui è un trequartista, però ragazzi è un talento cristallino pazzesco e lo sapevamo benissimo e chi lo nega secondo me dice una falsità, è un giocatore veloce, è un giocatore rapido, è un giocatore intelligente, è un giocatore, è mancino. Attenzione perché è mancino ed è imprevedibile e questa cosa la voglio sottolineare. E poi ragazzi, sì è vero, 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 ha problemi fisici. Però ragazzi Di Bala al top è assurdo, Di Bala al top ragazzi è qualcosa di clamoroso. Cioè se Di Bala dovesse arrivare a Roma, è arrivata a Roma, ma se dovesse a Roma essere il top, cioè staremmo parlando di un calciatore straordinario. E allora io sono qua a sognare perché ringrazio la Roma, stamattina era un video più a caldo, adesso è comunque a caldo. Uno perché mi sto a morire caldo, due perché non razionalizzerò mai l'arrivo di Paolo Di Bala. Oggi vi ho raccontato anche come l'ho scoperto tramite uno shorts che vi lascio qui in alto nelle schede. Però in questo video voglio andare a capire come la Roma giocherà. Allora, c'è una cosa, una possibilità, che io non penso che sia possibile, quindi non è una possibilità, che però mi farebbe impazzire e credo che sarebbe quella che farebbe impazzire un po' tutti i tifosi giallorossi. La possibilità in questione è quella che vi mostro qui alla mia destra. Una situazione paradossale in cui la Roma non cede Zaniolo dopo aver acquistato Di Bala. Ed è una situazione difficile. Perché? Perché probabilmente io continuo a dire che il Barcellona che acquista Lewandowski sblocca tutte le trattative perché poi paga 50 al Bayern. Il Bayern ce ne mette altri 20 e compra dell'ICT. La Juve andrà a prendere Zaniolo e quindi è per questo probabilmente che la Roma è andata su Di Bala. Quindi diciamo che l'arrivo di Di Bala, secondo me, sarà una conseguenza all'adio di Zaniolo. Però ad oggi che registro, adesso che vedete questo video, Zaniolo è ancora un giocatore della Roma. E quindi se dovessimo andare a mettere la Roma in campo in questo momento, perché come vedete anche dai centrocampisti non ho messo Frattesi, non ho messo Awar, non ho messo nessuno centrocampista di cui si sta parlando. Mi sono limitato semplicemente a mettere i calciatori che in questo momento giocano nella Roma. Ecco che si creerebbe un trio d'attacco spaziale. Però andiamo per gradi perché questo trio d'attacco costringerebbe la Roma a giocare con la difesa a 4. E da una parte per la fase difensiva sarebbe ottima perché tu avresti Mancini e Smalling titolari e quindi in quel caso avresti due ottimi panchinari come i Bagnez e Cumbulla. Non dovresti andare ad investire ulteriormente, però ne perderesti sulle fasce perché Spinazzola a sinistra e Carsdorp a destra sono due calciatori che sono prettamente offensivi, esterni di centrocampo, ma che fanno la loro forza sulla spinta. E questo, secondo me, farebbe, diciamo, calare di rendimento i due terzini. Certo è che se però devi giocare con un attacco così pesante ci sta che provi appunto a passare alla difesa a 4, cosa che non sarebbe clamorosa visto che spesso, 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 spesso il mister ha provato la difesa a 4. Poi centrocampo a 2 con Matic e Cristante e a questo punto la 3 quarti sarebbe clamorosa. Questa è forse la soluzione più difficile. Di Balla sulla 3 quarti perché Di Balla può fare quello e soltanto quello. Zaniolo alla destra perché lui tranquillamente a Roma ha sempre giocato alla destra, poi qualche volta l'abbiamo anche visto 3 quartista ma per la maggior parte dei casi ha giocato alla destra e Lorenzo Pellegrini alla sinistra o viceversa, cioè Pellegrini a destra e Zaniolo a sinistra. So che qualcuno dirà, ma tu ce lo vedi Pellegrini alla? Allora facciamo chiarezza, io Pellegrini lo vedo solo a 3 quarti, però se devo vedere Zaniolo, Di Balla, Pellegrini e Abram insieme, e questo ragazzi sarebbe un attacco clamoroso secondo me, clamoroso, allora chiedo a Pellegrini di fare quello che ha fatto con la nazionale e di giocare ala, visto che Pellegrini quando gioca la nazionale gioca ala e ha sempre fatto discretamente bene. Di Balla non lo vedo ala, cioè Di Balla non ci gioca ala, la Juventus non l'ha mai messo ala e quindi sarebbe inutile, sarebbe un nuovo adattamento, visto che la Roma lo scorso anno ha sempre giocato con il 3-4-2-1 e che comunque Di Balla è arrivato quasi sicuramente perché sa che giocherà nel suo ruolo originale, pensare a uno stravolgimento non è il caso, questo sarebbe l'unico modo secondo me per vedere tutte e quattro insieme e farli rendere al top. Ci sarebbe un altro modo che però secondo me non accadrà mai, perché quando è successo abbiamo visto che non ha mai fatto bene e non ve lo vado a mettere a schermo perché questo è già un altro modulo in cui Zaniolo è scomparso, però in realtà ci sarebbe secondo me un modo in cui Zaniolo è presente in questa formazione, però è una formazione completamente offensiva, tanto che non l'ho nemmeno messa, cioè un 4-3-3 dove giocherebbero Smalling e Mancini, Carsdorp e Spinazzola con Matic, Mezzala insieme a Ovveretuo, Cristante e Pellegrini e poi Di Bala trequartista dietro a Abram e Zaniolo o Di Bala e Zaniolo dietro ad Abram, quindi con Pellegrini che andrebbe a fare la Mezzala e questo è, e questo è, però ho scusato addirittura il mediano, ecco immaginatevi Pellegrini qua al posto di Cristante perché secondo me come ve l'ho detto io giocavamo in 12, Pellegrini qua al posto di Cristante e poi Di Bala e Zaniolo dietro ad Abram, ecco questa forse sarebbe una possibilità, però così facendo andresti un po' a distruggere quello che Pellegrini te potrebbe dà perché Pellegrini da mediano fa cagare, non me ne voglia Pellegrini ma da mediano perde tutta la sua, la sua, la sua, la sua, la sua verve, ok? E quindi sarebbe inutile, sarebbe inutile in questa Roma. Il secondo modulo che secondo me è possibile, ma è quello senza Zaniolo ceduto alla Juve, è questo, Rui Padresi in porta, quindi si passa la difesa a 3, Mancini, Smalling e Bangets con Kumbulla in panchina, in questo caso andrebbe comprato un altro difensore centrale perché secondo me non può rimanere con tre titolari e un panchinaro, Cristante e Matic a centrocampo, c'è anche Veretù, poi un altro lo prenderemo, Karsdorp e Spinazzola, quindi nel loro ruolo originale, Di Bala e Pellegrini dietro ad Abram, in questo modo Di Bala sarebbe un trequartista, uno dei due, quello libero di spaziare, anche se poi in realtà in questo ruolo qua Di Bala avrebbe un po' i compiti offensivi di Pellegrini, e Abram che sarebbe davanti, questo che vi faccio vedere qui alla mia destra è quello più probabile ed è quello che secondo me José Murigno andrà ad utilizzare. C'è un terzo modulo che però, se devo dirvi, è quasi una variante di quello che avevo fatto vedere, cioè del secondo modulo ed è questo qua, sempre come modulo non prevede Zaniolo perché l'unico modulo che prevede Zaniolo che avevo detto in precedenza è il primo, a meno poi che Pellegrini non voglia andarsi a inventare Mediano, ma ripeto che ne perderemo tanto, quindi la difesa sarebbe sempre la stessa, quindi Rui Patricio, Smolinghi, Bagnaz e Mancini, Cristante e Matice a centrocampo, Cardor e Spinazzola, quindi dalla cintola in giù non cambia nulla, Pellegrini sarebbe unico trequartista, in questo modo Di Bala non giocherebbe più trequartista, bensì andrebbe ad occupare il ruolo di seconda punta, girerebbe intorno ad Abram che eviterebbe di venirsi a prendere il pallone in mezzo al campo e anche quando Abram viene a prendersi il pallone in mezzo al campo Di Bala si va ad inserire e quindi in quel caso quando Di Bala stringe Abram allunga, quando Abram stringe Di Bala allunga tutto questo con Pellegrini che va ad agire sulla trequarti campo e secondo me, come ho detto quello di prima, è il modulo che la Roma utilizzerà, questo secondo me sarebbe il modulo più ideale perché in questo modo Pellegrini non verrebbe oscurato mentre per il sistema di gioco di prima c'è il rischio che Pellegrini venga oscurato da Di Bala, in questo caso no perché avrebbero secondo me due ruoli completamente diversi e Di Bala potrebbe tranquillamente giocare molto vicino alla porta ma non tantissimo perché tantissimo vicino alla porta Di Bala non si trova sarebbe perfetto per inserirsi quando ne ha bisogno e lì non dico nulla oppure rimanere più dietro con Abram che si allunga che crea lo spazio e quindi creare il buco tant'è che tantissimi gol di Di Bala quasi tutti sono arrivati da fuori area con la botta da fuori e quindi questo qua secondo me sarebbe il modulo ideale per la Roma sperando poi che arrivi un centrocampista perché non ho nulla contro Matici e Cristante ma sarebbe probabilmente uno dei centrocampi più lenti della storia del calcio e spero arrivi magari un Frattesi o una UAR o un Torreira e già il centrocampo della Roma prenderebbe come posso dire un altro tipo di qualità insomma questi sono i vari modi secondo me in cui potremo vedere Di Bala a Roma stiamo iniziando a sognare ma non è più un sogno in realtà perché l'abbiamo preso fatemi sapere la vostra fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto iscrivetevi al canale secondo voi come giocherà Di Bala a Roma? grazie, tantissimi piaci e buon salato all'allene come sempre ci vediamo ad un prossimo video grazie a tutti